Ecco qua, finalmente è martedì, stasera c'è l'ottava puntata e sarà un'ottima puntata. Siamo nel set ancora a lavorare, purtroppo, e sta piovendo a birotto. Qui forse ci sarà un hashtag anche in italiano, mi hanno detto che sarà probabilmente segui l'amore o qualcosa del genere. Vediamo, e ci si vede, ciao!